governano il biscione attraverso un sistema complesso di scatole societarie e hanno tre modi diversi di gestire gli utili il padre è il più spendacione il figlio il più oculato ha una liquidità di o 370 milioni di euro così su affari finanza da 0 a 15 milioni di euro tale è la distanza che separa l'inizio dalla fine della pandemia lo rivelano le scelte patrimoniali fatte qualche giorno fa dalle assemblee dei soci degli holding italiana prima seconda terza e ottava le quattro holding guidate dal fidato amministratore giuseppe spinelli attraverso le quali l'ex premier detiene il 63 per cento circa della fin invest a sua volta azionista di maggioranza relativa dell'olandese mfe a capo del gruppo televisivo mediaset la struttura di controllo di fin invest nel dettaglio vede i quattro veicoli di cui berlusconi azionista di larga maggioranza con una manciata di azioni proprie possederne rispettivamente il 17,1 per cento il 16,7 per cento il 7,8 per cento e il 20,4 per cento mentre le quote restanti di capitale sono in mano per il 7,6 per cento ciascuno alle holding italiana quarta e quinta rispettivamente dei figli marina e pier silvio avuti con la prima moglie mentre il restante 21,4 per cento è nelle mani della società h14 il cui capitale è ripartito al 33 per cento cada uno dagli altri tre figli luigi barbara ed eleonora avuti con veronica lario le quattro holding di silvio berlusconi così come quelle di marina e pier silvio chiudono contabilmente i bilanci alla fine di settembre e così quelli appena approvati sono i numeri che risentono nel conto economico delle scelte fatte nei primi nove mesi del 2021 dal principale asset in portafoglio appunto il controllo di fin invest nell'estate dello scorso anno il gruppo presieduto da marina e guidato da danilo pellegrino archiviò il bilancio del 2020 con una perdita di 27 milioni nell'esercizio civilistico ma decise attingendo alle ricche riserve di remunerare i soci con un dividendo di circa 100 milioni in calo comunque dal bilancio precedente grazie 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 grazie